Si è svolto ieri nella Sala Rossa del Comune di Pordenone l'incontro pubblico per presentare due documenti del nuovo PRGC, Piano Regolatore Generale Comunale, gli scenari alternativi e il rapporto ambientale preliminare. In sostanza si è fatto il punto sullo stato di avanzamento dei progetti del nuovo Piano Regolatore. L'iniziativa è stata illustrata dall'assessore comunale all'urbanistica Martina Toffolo. Oggi, in continuità con quanto è iniziato, abbiamo deciso di incontrare la cittadinanza e presentare la bozza del Piano Struttura. Nel rispetto dei patti che abbiamo preso con la città, cioè quelli di mostrare gli elaborati nel mentre in fase di costruzione e di rendere quindi ai doti tutti di quello che è il processo di costruzione del Piano Regolatore, insieme ai professionisti che stanno redigendo il Piano Regolatore e a coloro che stanno facendo il rapporto ambientale, abbiamo voluto avere un ulteriore momento intermedio per far vedere quello che è lo stato di avanzamento dei lavori. Non si parla quindi di uno strumento definito, si parla di un lavoro in itinere ed è su questo che ci vogliamo confrontare. Certi che il continuo incontro con le varie esigenze ci porterà ad avere uno strumento più calato rispetto a quelle che sono le esigenze del nostro territorio. Sappiamo che stiamo affrontando una sfida, una sfida che interpreta in modo diversa la nostra città e anche l'urbanistica. Per questo abbiamo necessità di condividerla nell'ottica però della propositività e del voler mettersi in gioco perché le dinamiche che fin qui sono andate e applicate oggi si stanno dimostrando incongruenti rispetto alla storia del nostro territorio.